benvenuti in kiwi bello a tutti ragazzi sciocari benvenuti e bentornati benvenuti e bentornati oggi ragazzi nuovissimo video perchè andrò e andremo soprattutto voi a votare i cosplay di tiktok ok quindi andiamo a vedere andiamo a dargli un voto a questi cosplay vi avviso che oggi sarò molto 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 pignolo molto stronzo molto cattivo e quindi cercherò di dare i voti più bassi possibili ma solo uno si beccherà il 10 chissà chi sarà va bene ragazzi voi fatemelo sapere nei commenti qual è il vostro cosplay da 10 che andremo a vedere ovviamente dopo che come al solito già lo sapete vi siete iscritti al canale mettete like commentate e fate tutte cose che dovete fare sempre dai 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 andiamo a vedere questi cosplay di tiktok e chi si beccherà il 10 allora iniziamo subito e vediamo questo gruppo di cosplay e devo dire che sono un po' particolari però non sono cosplayati si può dire cosplayati completamente quindi gli diamo un 6 la sufficienza un 6 andiamo avanti queste altre due invece devo dire tanta roba devo dire tanta roba queste due cosplay e che gli vuoi dare ragazzi tanto stronzo tanto cattivo ma ragazzi almeno un 8 e mezzo sono meritato andiamo avanti anzi 8 e mezzo più like andiamo avanti lei invece loro voto di gruppo voto di gruppo sei sufficiente 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 e like ovviamente tu sei invece questa mi sa che l'abbiamo vista anche nel video precedente e quindi vabbè like si mette per oggi sono proprio cattivo stronzo 5 5 andiamo avanti tu oltre a like che voto te posso dare l'abbiamo già visto l'altro allora ragazzi schippiamo i cosplay che abbiamo votato l'altra volta questa non so se l'ho vista l'altra volta me sa te no però me sa che non è un cosplay però intanto io gli do la sufficienza loro invece sono sono il team rocket al romix quindi innanzitutto un bel like e gli diamo un bel un bel sei e mezzo sei e mezzo perché oggi sono un po' cattivo ho detto oggi devo fare proprio o stronzo quindi sei e mezzo per voi ciao a tutti oggi ciao a tutti a Rimini Comics è iniziato il Rimini Comics e tanti cosplay belli mi piace mi piacete proprio voto di gruppo perché ne ho visti due anzi uno solo la cornuta del video ce l'abbiamo ed è lei voto sette voto sette andiamo avanti sette più like ovviamente andiamo avanti oh bella sta cosplay bella sta cosplay mi piace proprio voto sette e mezzo sette e mezzo più like mescolto sempre ti metti like tu invece che voto ti posso dare te posso dare sette e mezzo anche per te oltre a like ultimi tre video ok chissà chi si beccherà il dieci ah questa è un è un è un transition diciamo ma te posso di te posso di otto otto e like ultimi due ultimi ultimi due video credo che questa non l'abbiamo vista l'altra volta non lo so ce ne stanno un botto di Alastor ce ne stanno voto 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 otto e mezzo otto e mezzo ma ha fatto pure scenografia della bacca che che fa beh bello mi piace otto e mezzo anche per te raga facciamo l'ultimo video facciamo l'ultimo video chi sarà chi sarà il video dell'ultimo video e posso di bello Alastor mi piace 9 9 più like e quindi abbiamo visto abbiamo visto questi cosplay non c'è stato nessun 10 forse perché oggi ero particolarmente cattivo e stronzo te posso di forse l'ultimo Alastor che abbiamo visto è stato molto molto ben fatto anche le due cosplay quelle che ballavano all'inizio video mi sono piaciute parecchio forse il 10 avrei dovuto darlo a loro ripensandoci ma va bene è andata così è andata oggi nessun 10 vabbè ragazzi voi invece fatemelo sapere nei commenti qua sotto chi è il cosplay che secondo voi si è meritato il 10 vabbè ragazzi voi fatemelo sapere nei commenti ci vediamo al prossimo video perché oggi sto registrando questo video di giovedì e voi lo state vedendo venerdì e già da oggi giovedì è iniziato il Rimini Comics di conseguenza di conseguenza lunedì uscirà il video sui voti dei cosplay di Rimini Comics e se ci siete a Rimini Comics mandatemi le vostre foto che fate in giro a Rimini Comics e altri cosplay così li andrò a votare vabbè ragazzi noi ci vediamo al prossimo video del voti e reaction e cosplay di Rimini Comics Shagari bambi bambi Grazie a tutti.